Eccolo che arriva, è lui il re del rock, è proclamato ora imperatore del twist, Adriano Celentano, arriva tra i carabinieri. Urca, lo hanno rilasciato. Ogni volta che io lancio un disco oppure vado a cantare alle serate, faccio qualche cosa, non sono mai soddisfatto di quello che faccio, pur mettendocela tutta. Poi invece quando vedo che il pubblico mi applaude, grida, bravo Adriano, sei forte, sei più forte tu che lui, io rimango perplesso e penso che invece è lui che è molto più forte di me. E questo mi convince che il pubblico con me è troppo buono. Salve. Dunque adesso vi dico le cose come stanno. Le cose stanno bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.